Kerea, vieni a mettermi lo smalto alle unghie, così parliamo un po'. Ho bisogno di parlare con una persona intelligente, e qui non ce ne sono molte. Kerea, perché non mi ami? Perché in te non c'è niente da amare, Caligula. Perché a queste cose non si comanda, e anche perché, ti capisco troppo bene, non si può amare in un altro ciò che si cerca di nascondere in se stessi. Perché mi odio? Qui ti sbagli, Caligula. Io non ti odio. Ti considero dannoso e crudele, egoista e vanesimo, ma non posso odiarti. Perché non ti ritengo felice, e non posso nemmeno disprezzarti, perché so che non sei un figlio. Allora perché mi vuoi uccidere? Te l'ho detto. Ti considero dannoso. La maggior parte della gente, dicono. Non è in grado di vivere in un mondo, nel quale la più folle fantasia può introdursi nella realtà durabile. Neanch'io posso più vivere in un simile mondo. E' una contraddizione. E' vero. Non è logico. Ma il sabato. Tu sei scomodo per tutti. E' naturale che debba sparire. E'low come il pagina. Grazie a tutti